Partenza valida. Un altro primato, stavolta europeo, il giorno dopo sui 200. Molto bene anche San Firescu. Mennia sta per sbucare in rettilineo. Nettamente disteso, procede. Lancia fissimo. Imprendibile e con enorme vantaggio vince. A secondo posto a Beti. Tempo ufficioso, 22. Ufficioso, ripeto, ufficioso. Se sarà confermato, record europeo guagliato. Applauditissimo Mennia, eccolo. Confermato, 22. 22, confermato, record europeo guagliato. Confermato. Formidabile, meraviglioso Mennia. Diecinetti ieri sera, 22 e oggi. Straordinario, assolutamente straordinario. Guardate con quale superiorità schiacciante la ventenne Freccia del Sud di Barletta sta vincendo questa gara. Eccolo. Stupendo. Secondo è a Beti. E anche a Beti sicuramente ha realizzato un risultato splendido.